Questa sera Verbania ha l'ora di ospitare Massimo Stano, il campione di atletica leggera per la disciplina della marcia oro ai mondiali di Eugene sui 35 km, nonché anche oro olimpico a Tokyo sulla distanza dei 20 km. Allora qual è il motivo della tua presenza qua a Verbania? Io sono qui oggi a Verbania, sono contento di essere qui perché appunto ho gemellato con un progetto importante che è con il mio amico Luca Scolari, quindi siamo qui un attimo per gestire le cose, cercare di organizzarsi al meglio, per cercare di arrivare il prima possibile lì a Gerusalemme appunto. Oltre a questo hai già in programma altri impegni agonistici? Allora adesso l'obiettivo principale è sicuramente il mondiale di Budapest, dove vorrò provare la doppietta, quindi sia sulla 20 km che la 35, dove saranno divise da 5-6 giorni, quindi proviamo a fare un'ulteriore sfida perché a me piacciono. Tra l'altro adesso in questo momento chiaramente sei il campione del mondo in carica, quindi sicuramente proverai a riconfermarti. L'obiettivo è sempre quello di arrivare davanti a tutti, poi se quel giorno sei il più forte è bene, altrimenti mi va bene in qualsiasi posto. Però con il mio allenatore Patrick sicuramente cercheremo di ripeterci al meglio. Una vera e propria freccia del sud sulla lunga distanza? Sì, diciamo che Mennea è anche uno dei miei atleti preferiti, mi ha fatto capire che anche la Puglia poteva sfondare a livello mondiale, quindi ci ho provato anch'io. Bene o male forse ci sono riuscito. Verbagna è gemellata con Betlemme e in questo momento Massimo si sentiva di dare un significato anche alle vittorie sportive che aveva fatto, facendo un'opera per gli altri. Abbiamo pensato che la sua idea di fare questa marcia tra Betlemme e Gerusalemme, tra la Palestina e Israele, e questo momento sarebbe qualcosa di dare continuità e dare un messaggio alle persone che intendono che sia qualcosa di positivo fare questo tipo di azioni.